Senta, questa è una domanda che mi arriva da tutte le parti, insomma penso che anche i nostri ospiti abbiano il problema, molti ce l'hanno. Posso andare nella mia seconda casa, nella stessa regione? Da quello che leggo io mi sento di dire di sì, perché non solo si parla di residenza o domicilio nel DPCM, ma si parla anche di abitazione. Quindi nel momento in cui è scritto testualmente che in ogni caso è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, deduco, salvo circolari interpretative di questi giorni, che la seconda casa, dopo il 4 maggio, dal 4 maggio in poi, si possa andare. Il problema è che gli italiani capiscono che nulla cambia fino al prossimo weekend.